Il Consiglio regionale approva a larga maggioranza la nuova legge per la presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere. Due le novità rispetto alla precedente normativa spiega il primo firmatario e il consigliere del PD Andrea Vannucci. La prima si riconosce il ruolo di vittime per colore che assistono a violenza e l'altra si istituiscono a livello regionale gli elenchi dei centri per gli autori di violenza. Da questo punto di vista si è resa necessaria una revisione della normativa del 2007 che era una normativa a cui aveva lavorato ai tempi la regione toscana e che era una normativa all'avanguardia che aprì anche una strada per le altre regioni e per una legislazione nazionale in materia che aveva necessità di essere adeguata anche alle ultime novità intervenute a livello anche internazionale a partire per esempio dalla Convenzione di Istanbul. Così accanto alla novità dell'istituzione dell'elenco regionale, dei centri antiviolenza e delle case rifugio e l'elenco dei centri per gli uomini autori di violenza domestica e di genere operanti sul territorio regionale, l'Aula approva un ordine del giorno che impegna la Giunta ad avviare un percorso finalizzato a un aggiornamento organico della normativa risalente al 2007. Si incentiva la promozione di una serie di percorsi nelle scuole all'insegna del rispetto reciproco e della non violenza, quindi da questo punto di vista credo che sia stato fatto un buon lavoro, un buon lavoro evidentemente rispetto a un tema che purtroppo, lo vediamo anche nei fatti di cronaca di queste ore non smette di avere i numeri e le caratteristiche di una vera e propria emergenza. A favore della nuova normativa votano PD, Italia Viva, Fratelli d'Italia. È altrettanto importante che le persone che invece vengono a compiere questi atti, gli uomini, sia possibile anche per loro un percorso rieducativo attraverso quelle strutture che hanno tutti i criteri accreditati presso le regioni e negli accordi fatti tra lo Stato e la Regione. Io però ritengo che questo sia un tema che vada affrontato nelle scuole direttamente dalle elementari perché bisogna crescere con la cultura del rispetto, non bisogna arrivare al punto di dover rieducarsi. Dobbiamo proprio educarci affinché questo non debba mai accadere ed è importantissimo che le scuole abbiano un ruolo determinante. Un segnale politico importante. Oggi con la proposta di legge che è stata votata all'iniziativa della maggioranza anche in Toscana a completamento di quella che è la legge che già prevede i centri per la violenza e quindi anche per l'accoglienza delle donne vittime di violenza oggi introduciamo anche delle strutture che possano in qualche modo supportare anche la rieducazione e la presa in carico degli uomini che in qualche modo sono coinvolti in dinamiche di violenza domestica. Io credo che questo intervento debba essere eletto a completamento del quadro regionale ma soprattutto debba essere eletto non solo in un'ottica di prevenzione ma soprattutto debba funzionare anche per la presa in carico ad esempio di persone che nel 90% magari si sono macchiate anche di reati proprio su queste materie quindi sul tema della violenza. Ecco, noi come Consiglio regionale abbiamo dato un segnale anche di evoluzione sotto questo aspetto e se davvero vogliamo che questi centri funzionino devono avere anche una funzione estremamente educativa ripeto, magari nei confronti di persone che hanno anche commesso reati. Lega e Movimento 5 Stelle si astengono. La legge 57 del 2007 secondo noi è già sufficiente o meglio è migliorabile ma non con questa proposta di legge e con questo ordine del giorno perché sostanzialmente non dice molto. L'ordine del giorno eravamo anche disposti a votarlo però era fin troppo specifico nella narrativa cioè si parla di maschilismo e noi avevamo chiesto di togliere questa parola perché era nella narrativa già un giudizio c'era già bullismo e era giusto sessismo e era giusto rispetto della persona e era giusto ma maschilismo sembrava quasi dare una sentenza in quella che era l'argomentazione per cui ci siamo astenuti. Concettualmente è ovvio che non si può che essere d'accordo sul tenere in considerazione la violenza di genere come un argomento attualissimo. Purtroppo per come è stata impostata per la mancanza assoluta di finanziamenti ulteriori che appunto non sono previsti e non sembra essere rispondente a quelle che sono le drammatiche esigenze di questo momento storico. Ecco il motivo per cui seppur a malincuore abbiamo dato un voto di astensione anche perché all'interno di uno di questi articoli c'è un riferimento a uno sforzo di ricongiungimento relazionale che a nostro avviso può essere anche pericoloso va contro anzi quelle che sono le raccomandazioni degli esperti che invitano a non fare quell'ultimo incontro quell'ultimo appuntamento e di lasciare che le strade di due persone si separino specialmente quando in mezzo ci sono anche dei minori. Ecco il motivo per cui con dispiacere ci siamo astenuti ripromettendoci però di intervenire di nuovo su questa legge innanzitutto con dei finanziamenti che sono stati previsti invece nell'ordine del giorno al quale abbiamo votato a favore ma soprattutto con un'azione più incisiva dal punto di vista della programmazione regionale e dei contributi anche fattivi per i centri per la violenza per sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza e soprattutto per la rieducazione per la prevenzione come ha detto anche la commissione pari opportunità. Oggi qui noi vogliamo dire che tutti insieme possiamo cambiare le politiche pubbliche per sostenere la parità di genere nei luoghi di lavoro. Quando dico di cambiare le politiche pubbliche voglio dire prima di tutto cambiare l'approccio culturale che hanno tanti uomini e tante donne che partecipano ancora alla scelta e alla selezione e all'inserimento di donne nel mondo del lavoro. Protocollo d'intesa tra la commissione regionale pari opportunità e il comitato interordinistico insieme per le professioni per individuare percorsi di diffusione della cultura antidiscriminatoria e di destrutturazione degli stereotipi al fine di prevenire e contrastare ogni tipo di violenza e discriminazione e promuovere le pari opportunità. Con l'obiettivo di lavorare insieme per costruire una cultura di parità diffusa su tutto il territorio grazie alle loro professionalità possiamo costruire iniziative e progetti che siano diffusi su tutto il territorio della Toscana e diano la possibilità di creare e di prevenire qualsiasi forma di violenza ma anche di costruire un mondo in cui le donne possano essere realizzate soprattutto sul lavoro. Credo che sia molto importante che le professioni si siano messe insieme e abbiano compreso questa necessità. Per attuare le iniziative nascerà un comitato di coordinamento. La convenzione firmata in consiglio regionale ha una durata di due anni. Assieme alla Commissione il Comitato Insieme per le Professioni nato nel 2018 proprio per combattere le discriminazioni nel mondo delle professioni. Insieme per le Professioni è un gruppo interordinistico e interprofessionale che ha l'obiettivo proprio di fare rete e di mettere insieme i saperi e le competenze che ciascuna professione ha a servizio di percorsi e progettazioni in ambito di fare opportunità. Avevamo avuto varie sollecitazioni dagli operatori ma anche dai soggetti istituzionali a organizzare incontri formativi e informativi su un tema così importante che quando si avvicinano le scadenze elettorali diciamo sale la temperatura e l'attenzione su questo tema per cui ci è sembrato utile fare questa iniziativa insieme all'ordine dei giornalisti della Toscana che ringraziamo e Acecom che è qui presente con noi questa mattina con la dottoressa Polcaro proprio per dare informazioni strumenti e linee guida per affrontare in modo sereno come storicamente è avvenuto in Toscana. Così il presidente del Corecom della Toscana è in occasione del corso dal titolo Parcondicio e comunicazione istituzionale indicazioni professionali e buone pratiche promosso a Firenze da ordine dei giornalisti della Toscana a Fondazione Odigi Toscana e Corecom Toscana in vista della prossima tornata elettorale elezioni amministrative ma anche elezioni europee. Credo che sia arrivato il momento visto che ci avviciniamo a una tornata elettorale particolarmente delicata come del resto lo sono sempre state tutte però diciamo che questa particolarmente abbiamo sentito la necessità di venire incontro ai colleghi facendo e organizzando appunto insieme al Corecom che ringrazio gli incontri per fare chiarezza sulle regole. Presente oltre al presidente dell'ordine dei giornalisti della Toscana Gianpaolo Marchini anche Antonietta Polcaro di Agicom. Noi abbiamo da offrire insieme al Corecom tantissimo alle istituzioni e per essere intendo non solo quelle pubbliche ma per me istituzione cioè ciò che governa poi i territori sono anche i giornalisti e l'ordine che so in cui essi appunto sono rappresentati. È un progetto ambizioso è un progetto che supera i confini comunali ma che metta a sistema una realtà che già esiste e siamo certi che lo porteremo avanti a prescindere ma essere capitale italiana della cultura 2026 significherebbe accelerare questo processo che per i nostri territori è fondamentale. È la prima volta che una unione di comuni arriva ad essere tra le dieci finaliste. La Toscana sostiene idealmente la valdichiana senese candidata a capitale italiana della cultura 2026. Martedì 5 marzo una delegazione si è recata a Roma al Ministero della Cultura per l'audizione finale a spiegare il progetto il direttore della candidatura Filippo Del Corno. Il punto di forza è quello di proporre un modello quello dell'ecosistema culturale identificando proprio nella valdichiana senese una forma in cui ha preso vita un ecosistema culturale fatto da un lato di elementi materiali come il suo straordinario patrimonio artistico architettonico paesaggistico ma anche elementi immateriali che sono l'intelligenza creativa la competenza artigianale del sapere scientifico questi elementi stanno in un equilibrio dinamico che produce di fatto una condizione di benessere per la comunità che abita la valdichiana e noi questo vogliamo proporlo come un modello replicabile in altre aree interne chiaramente non ci sfuggono quelli che sono i punti critici invece e uno tra i tanti anzi forse il più significativo è quello dello spopolamento che di fatto sta interessando molte delle aree interne di quelle che vengono definite aree interne del nostro paese ecco noi crediamo che attraverso la cultura si possa trovare una via per contrastare lo spopolamento e far tornare questi luoghi ad essere luoghi desiderabili non soltanto per coloro che lo vogliono visitare come turisti che naturalmente sono sempre ben accolti ma quelli che vogliono fare il proprio progetto di vita appunto in valdichiana un'opera di videoarte realizzata da Giuseppe Ragazzini colonna sonora firmata da Alessandro Cristoforo e Diego Perugini ha aperto la presentazione del progetto in sala con i sindaci dei dieci comuni che compongono l'Unione anche il presidente del Consiglio regionale un progetto che parte dal territorio un progetto che tiene conto di questa grande scoperta che è avvenuta a San Casciano dei Bagni una scoperta unica al mondo ma è anche un racconto di storie e tradizioni differenti un seme un seme per costruire una proposta culturale differente in grado di attirare turisti da tutto il mondo Sono davvero felice onorato di poter inaugurare il Salone delle Feste di Palazzo Bastrogi ristrutturato dopo tanti anni con la mostra di Emilio Vedova uno dei più grandi artisti italiani del Novecento Sono le opere di Emilio Vedova raccolte nella mostra tu nell'universo a inaugurare gli spazi restaurati di Palazzo Bastoggi nato a Venezia nel 1919 da una famiglia di artigiani operai Vedova iniziò a lavorare da autodidatta fin dagli anni Trenta quella in consiglio regionale è la prima mostra pubblica dedicata all'opera dell'artista nella città di Firenze tu nell'universo perché spesso le persone di fronte all'arte contemporanea hanno timore quasi sono respinte dall'arte contemporanea e spesso non le capiscono purtroppo ma perché vanno sapute spiegare la scelta del titolo è perché Vedova con questi quadri che avete visto in mostra e vedrete in mostra spero vuole far entrare lo spettatore il fruttore dell'opera all'interno del proprio lavoro del proprio disegno che ha ideato Vedova e per questo tu nell'universo perché ognuno di noi ogni fruitore ogni persona può venire qua ad altezza occhio sono state scelte la scelta curatoriale è stata proprio quella di mettere tutti i quadri ad un'altezza che lo spettatore possa entrare all'interno dell'universo appunto che aveva ideato Vedova e quindi entrare in quel mondo che è la bellezza dell'arte di Emilio Vedova è una versione diversa rispetto a una mostra che abbiamo già proposto che qui si arricchisce di una serie di opere che vanno a completare un percorso di un artista che ha lavorato più di 60 anni siamo riusciti a recuperare opere che appartengono a tutti i decenni artistici di questo straordinario pittore siamo in una cornice storica importante un palazzo che ha una personalità forte quindi riuscire poi a creare un dialogo tra un artista che nei toni cromatici nella materia è molto esuberante con un palazzo che ha una personalità fortissima non è facile credo che ce l'abbiamo fatta abbiamo dato un taglio diverso alle solite mostre che magari si limitano a mettere i quadri in ordine cronologico che abbiamo cercato di creare dei ponti invece tra decenni diversi per fare in modo che opere che non sono mai state esposte e messe insieme creassero dei significati nuovi perché no però non sono mai soltanto un po' guardare grazie